Buona giornata. È proprio vero che un'occasione persa ci fa fare anche e ci fa avere un grande rispetto per la prossima occasione. Non è detto che ogni lasciata è persa, ma a volte è vero l'occasione mancata si può ripetere. Così come anche oggi, guardate 21 marzo, inizia la primavera, un'altra occasione, c'è un'altra modalità, c'è un'altra occasione di vita, a cominciare dalla natura, da quello che sta compiendo. Cioè non è detto che tutto finisce in una stagione, ma ci possono essere nuove primavere. Guardate come nell'esperienza di un amore, di un affetto, ma anche di un legame, ci possono essere nuove primavere. Allora avremo più rispetto dell'occasione che sta arrivando e che forse oggi vuole nascere e essere condivisa con ognuno di noi. Anche la natura ci dà questa seconda occasione, anzi un'altra occasione per poter viverla al meglio. Il Signore ti illumina e ti benedica. Buona giornata.